E' stata presentata presso la suggestiva tonnara dell'Orsa Cinesi, l'app dedicata alla legalità a mare e al rispetto delle normative. L'evento è stato promosso dal flag Golfi di Castellammar e Carini. I nostri microfoni, il sindaco di Cinesi Palazzolo, il presidente del flag Pietro Puccio, è l'ideatore dell'applicazione. Un strumento dato al cittadino per segnalare le anomalie laddove esistessero nell'ambito del territorio. L'immondizia, il frigorifero lasciato in spiaggia, ma potrebbe intendersi anche il cane randaggio o il branco di cani randaggi, piuttosto che i corpi galleggianti. In senso più lato però è un tentativo di educare il cittadino alla legalità e di dare tutta serie di informazioni in modo che l'ente pubblico che è predisposto all'iniziativa possa intervenire e possa risolvere il problema. Nell'ottica di altri programmi, per esempio il Pol Legalità, potrebbe essere foriera di ulteriori finanziamenti al territorio. Non bisogna confondere la denuncia anonima con la delazione. È un modo ordinario, dagli effetti importanti, di collaborare con le istituzioni ed è giusto che la denuncia sia anonima perché si deve fare carico del controllo e della sanzione, lo Stato, l'ente pubblico, l'ente territoriale. Non possiamo mettere nelle condizioni il privato, il singolo, di rischiare. È giusto che ci sia questo filtro che è rappresentato dall'ente. Questa app, sotto questo profilo, secondo me, è interessante e intelligente. Ho avuto parole di apprezzamento per due sindaci emeriti. Il sindaco Coppola di Castellammare e il sindaco Vitale di Trappeto. Perché li ha menzionati? Perché hanno amato il loro territorio e l'hanno amministrato in maniera straordinaria. Da sindaco che un giorno diventerà emerito, dico sempre che non bisogna dimenticare chi si è occupato della cosa pubblica. Bisogna stigmatizzare sempre la loro presenza perché il loro grande amore verso il territorio è comunque un esempio anche per chi poi amministra. L'applicazione del genere questa sera con quale consapevolezza è in più? Di avere un mezzo in più per tutelare l'ambiente. Qualsiasi tipo di possibile inquinamento ambientale, sia terrestre che marino. E quindi parliamo di pesca illegale, parliamo di sversamenti illegali nei torrenti. Il Nocella ci insegna qualcosa, il torrente Ciacchea, il San Bartolomeo. È uno strumento essenziale per poter fare diventare questo territorio. Almeno noi diamo lo strumento, poi ci vuole sempre la partecipazione dei cittadini perché la differenza la fanno sempre le persone. Per poter fare diventare questo territorio è un territorio davvero di serie A per quanto riguarda la tutela ambientale. Ce la giocheremo con tanti altri territori della regione siciliana e possiamo davvero dire la nostra. E accendere un amici, riaccendere i motori dello sviluppo. L'ambiente visto come noi, una parte di noi. Se non tuteliamo questo bene primario che abbiamo, non abbiamo possibilità di crescita, di sviluppo. La stragrande maggioranza dei cittadini, purtroppo, reputa la difesa dell'ambiente, la tutela dell'ambiente come qualcosa che riguarda gli altri. Non cosa l'ambiente può fare per me in questo caso, ma come io possa adoperarmi per me come ambiente. Credo che calzi a pennello in questa situazione. Come amerebbe andarcene a casa ognuno di noi questa sera? Con quale consapevolezza in più? Che quest'app sia inutile. Nel senso che tutti prendiamo coscienza e non abbiamo bisogno di anonimato per denunciare le illegalità che avvengono nella devastazione dell'ambiente.